La sorte di Lucia Azzolina sembra ormai segnata, anche se, come si sa, in politica non bisogna mai dire mai. È molto probabile che comunque vada a finire la vicenda, la ministra Azzolina sarà ricordata, forse un po' ingenerosamente, come la ministra dei banchi a rotelle. Però, diciamo la verità, su Azzolina si può anche ironizzare, come peraltro è stato sempre fatto con tanti altri ministri prima di lei. Chi non ricorda, per esempio, le battute sul diploma di maestra d'asilo della Fedeli o sul tunnel del Gran Sasso della Gelmini. Ma non bisogna dimenticare, ad onor del vero, che ad Azzolina è capitata anche la sventura di dover gestire un vero e proprio annus horribilis. Resta un fatto. Effettivamente i banchi a rotelle non sono stati un'idea felicissima. Forse la ministra è stata mal consigliata o non è stata aiutata a sufficienza nella gestione materiale concreta della operazione. In prima battuta, come si ricorderà, il commissario Arcuri con grande sicurezza aveva garantito che la consegna dei banchi sarebbe iniziata nel mese di settembre, anche se subito dopo aveva precisato che si sarebbe andati un po' oltre. Alla fine era stato detto che per Natale tutte le scuole avrebbero avuto gli arredi richiesti, ma a leggere le cronache di questi giorni pare proprio che in diverse scuole i banchi non siano ancora stati consegnati. Pochi giorni fa ci si è messa anche l'assessore regionale del Veneto Elena Donazzan ad alimentare la polemica. I maliziosi dicono che l'assessore del Veneto potrebbe aver sollevato la questione per far passare sotto silenzio la sua recentissima gaff sulla sua preferenza per faccetta nera rispetto a Bella Ciao. Donazzan ha dato ordine di ritirare tutti i banchi a rotelle dalle scuole del Veneto perché, stando ai dati in suo possesso, sarebbero nocivi alla salute degli alunni. Intanto un nutrito gruppo di dirigenti scolattici di tutta Italia, per la verità neppure di provata fede grillina, anzi, invita giustamente a non ironizzare sui banchi a rotelle. Sono sedute innovative, non sono banchi con le ruote, dicono, e sono nate per facilitare nuove metodologie di carattere collaborativo, per agevolare il lavoro di gruppo, per favorire la generazione di buone pratiche didattiche. E aggiungono anche che nelle loro scuole sono in uso da anni con grande soddisfazione di studenti e docenti. Insomma, per criticare Azzolina è meglio trovare argomenti più sostanziali e più sostanziosi. Sulle vicende legate alla crisi di governo e all'eventuale cambio di ministro, noi continueremo a tenervi informati. Quindi seguiteci su questo canale, ma anche nel nostro portale www.tecnicadellascuola.it. Scriveteci, mandateci i vostri commenti, noi ne daremo conto come di consueto. www.tecnicadellascuola.it.it